Buongiorno a tutti per le pagelle! Siete stati bravissimi! Vi siete divertiti quest'anno a scuola? E avete imparato a giocare con i vostri amici? Sì! Allora questa è la cosa importante ragazzi! Tutto il resto lo facciamo anche a casa, ma i vostri amici li avete solo lì, ok? Sì! Mandate un bacione a tutti i vostri compagni e cerchiamo di rivederli prestissimo! Sì! Allora bravi, guardate questa bellissima torta arcobaleno! Allora, certo, adesso, se auguri a te no! Cambiala! Ultima! Ecco, meglio! Bravissimi! Bravissimi! Siete dei bravi ragazzi! Bravi! Chi prova a tagliare? Io! Dai! Come si taglia? Ecco! Benissimo, iniziamo benone!